Salve ragazzo, salve ragazzi, buonasera e buonanotte visto che è un po' tardi. Allora, questa notte canalizzazione mi sarà richiesta da un po' di tempo ed è da un po' che non ne faccio, quindi non c'è variante, non c'è scelta di colore o di numero, ma selezioneremo 12 carte dal mazzetto di Osho e vedremo cosa vogliono dirci. L'incipit della canalizzazione è questa notte, in questo momento. Beh, la persona che ha fatto richiesta ovviamente, credo si capisca, ha parlato nelle poche righe che mi ha scritto di una situazione che riguarda una storia d'amore e come potete immaginare quando si chiedono queste cose sono sempre storie d'amore a distanza o con qualche, diciamo, inconveniente nel mezzo. Quindi andremo a vedere questa cosa. Non dico che la premessa condizionerà necessariamente ciò che le carte diranno, però sicuramente partiamo da un contesto così nell'interrogarle, proprio perché gli interattivi sono risposte alle vostre domande specifiche. Detto ciò, andiamo a selezionare le 12 carte. Come è andato il mese di ottobre? Siamo a metà, avete notato fenomeni paranormali nel bene e nel male? Chi ha notato cose molto strane in questo mese? Se volete lasciate pure i commenti perché me sto vedendo di tutti i colori. Ripeto, nel bene e nel male. Allora, abbiamo selezionato le nostre 12 carte che scivolano e andiamo a vedere. Questa notte, in questo momento, non riesco a dormire. Sono tanti pensieri che mi tormentano, mentre dentro di me provo a quietarmi. Provo a lasciare che tutto scorra via, che tutto mi scivoli addosso. Provo a non guardare. Ma non appena apro gli occhi, quelli fisici, come quelli del ricordo, appaiono tutti i tormenti. Li vedo, li sento, ma li vedo. Non mi lasciano in pace, non mi lasciano riposare. Oramai sono molte notti che non riesco a dormire. E non posso parlarne con nessuno. Non posso parlarne neanche con te, quando io in realtà vorrei tacerne. E vorrei tacere. E che tacessero questi pensieri nella mia mente. Eppure non riesco. E l'unica cosa che posso fare è continuare a tenere gli occhi chiusi. Nonostante il mio cuore desideri con ardore di allontanarsi da questo luogo in cui mi trovo. Vorrei avere ali per potermi liberare nell'aria. Vorrei poter mostrare al mondo e quindi concedere anche a me stesso o me stessa di essere onesto e sincero a quello che provo. Eppure, quel qualcosa che per me ha tanto valore è nascosto proprio nell'angolo più buio della mia mente e della mia anima. Quella perla all'interno di una conchiglia che nessuno può aprire. Che nessuno può scalfire. Perché poi tra l'altro non lo permetterei. Sì, lo so. Queste parole forse non ti fanno neanche piacere questi pensieri. Perché ricordo di te ed è ricordo di noi. E allo stesso tempo, la tensione che mi logura è l'incapacità del mio non saper vivere questa storia. Ho del mio non saper vivere in generale. Ma credo di essere andato già sconfitto da questo punto di vista. Perché poi alla fine mollo prima ancora di tentare. Il problema è che mollo con il corpo. Mollo con i tentativi. Ma non riesco a far sì che anche i sentimenti seguano questa mia volontà. Perché i sentimenti vanno per proprio conto. Ed è così che scendono dentro di me. Scorrono. All'esterno scorrerebbero come lacrime. Ma non posso permettermene. Perché chi mi accanto capirebbe. Capirebbe che a volte sono lacrime di gioia. Ma spesso sono lacrime di tormento. Eppure nel mentre posso trattenere tutto il resto. Nel mentre riesco ad indossare un'armatura bellissima, lucida che in un qualche modo poi mi anche protegge. Ecco che i sentimenti non riesco a gestirli. Non riesco a gestirli né nei miei confronti né nei confronti di chi ho intorno. E quindi è solo malessere. Mi sono fatto taciturno. Sono diventata taciturna. Non rido più come prima. Non mi vado a uscire. Per fortuna posso utilizzare la scusa di questi giorni. Che è meglio non vedersi in giro. Per fortuna posso indossare la mascherina. E posso coprire le labbra quando mordo. proprio queste ultime. Perché delle parole vorrebbero uscire ma le trattengo. E più ricordo di te e più penso a te e più ricordo la tua energia. Perché sei tu quella persona che mi hai insegnato forse senza neanche saperlo a lasciar scorrere a lasciar essere esistere i miei sentimenti che con te sono riuscita a condividere. Perché tu sei riuscita ad essere faro anche nei miei dubbi. Dicono che la luna sia ingannevole. Io so solo che quando ti ho incontrata quella luce per quanto ingannevole effimera ciclica che a volte scompariva ha rappresentato comunque un faro a volte più vicino a volte distante ma quantomeno mi dava un orientamento e il desiderio di guardare fuori cosa che adesso non faccio più. E in questa notte in questo momento vorrei tanto liberarmi da questa condizione e non riesco a muovermi e liberarmi vorrebbe dire allontanarmi da tutto e tutti. Vorrebbe dire assecondare l'indole solitaria che mi contraddistingue ma vorrebbe dire anche affermare la mia volontà cosa che in questo momento non posso fare e non so fare forse perché in effetti non avere propria volontà non la ho e questa è la cosa peggiore perché non ho un punto di riferimento non so neppure la cosa voglio fuggire so solo che non riesco a stare nel luogo in cui sono e quindi dovendosi restare sono tormentato di conseguenza non riesco a dormire e i pensieri si fanno più vividi non posso nascondere ed impianto che provo per tutte le volte non sono nei tuoi confronti in cui ho deciso di mollare ma ancora prima di aver tentato perché ho giudicato ho giudicato le mie forze in negativo e ho giudicato le persone intorno a me non credendo minimamente che lì dove non posso arrivare io magari possano arrivare loro e ho forse dimenticato che venirsi incontro significa compiere dei passi in modo reciproco e quindi a volte quando la stanchezza sopraggiunge se anche mi dovessi fermare magari saresti stata tu a raggiungermi o qualche altro evento della mia vita ecco non lo saprò mai proprio perché non ho osato vivere queste situazioni per paura di perdere quel poco che avevo per trattenere quel poco che ancora oggi ho e che poi non rappresenta chissà che grande importante tesoro ecco ho fatto deserto intorno a me ho essato muri che non sono stati assolutamente una protezione o una difesa ma sono stati solo separazione mi hanno separato separato dagli altri ma mi hanno separato innanzitutto dal mio futuro perché in fondo io la cosa che ho allontanato da me a cui ho rinunciato prima ancora che alle persone e alle relazioni sono state le possibilità di realizzazione personale il mio futuro a un certo punto so solo che mi sono fermato e non ricordo più la causa forse quel bene che in un primo momento mi è sembrato talmente appagante quei primi risultati positivi della mia vita forse mi hanno accecato ed ecco perché adesso non riesco ad aprire gli occhi e non voglio vedere una sorta forse di punizione non lo so tu cosa diresti cosa mi ricorderesti che mi sto punendo ora solo perché ho lasciato che i miei occhi si riempissero di risultati troppo facili da ottenere e spesso effiveri ho risposto in maniera troppo entusiasta a quei primi guadagni ho creduto di essere arrivato di essere giunto e quel pensare di essere giunto chissà dove è diventato per me arrestarmi in un luogo dal quale poi non sono riuscito più ad allontanarmi e quello che prima sembrava il frutto di un lavoro o di un desiderio si è rivelato essere solo zavorra io non sono riuscito più a riprendere il cammino e quei frutti sono diventati un peso che mi hanno ancorato ancora di più a terra sono stato io a chiudere quel libro e sono stato io a non voler leggere i capitoli a seguire questa notte in questo momento io so solo che non vedo nessuna direzione sento un fortissimo peso e se già nelle settimane passate nei mesi passati ho rinunciato definitivamente a qualsiasi scelta e ho accettato anche di convivere con questi miei impianti quest'oggi mi sento molto più debole eppure tra i pensieri che non mi abbandonano compresi quelli che sono dei veri e propri moniti ci sono anche pensieri belli che diventano struggenti proprio perché distanti sia nello spazio che nel tempo e tra questi pensieri ci sei anche tu avrei voluto avere il coraggio di sfidare non solo la mia pavidità ma anche il contesto arido non lo so perché in fondo non era il contesto che doveva amarti o provare ma dovevo essere io nel dubbio che questa margherita riaccende del mi amo non mi ama nel tentativo avrei dovuto provare a sfogliarla magari il risultato sarebbe stato negativo o forse no ma non lo saprò mai perché oltre a non sfogliare questa margherita non ho lasciato neppure che nascesse avrei potuto stare al tuo fianco l'ho desiderato ma non sono riuscito a compiere quel passo per avvicinarmi sono rimasto rigido e anche tu a modo tuo non hai fatto nulla forse rispettando l'apparenza delle mie volontà invece lì dove non si potevano vedere i miei desideri io ero già unito a te e l'unica speranza che ho nonostante la mia immobilità nel presente è che in un futuro anche se lontano questi desideri possano diventare alla luce del giorno una realtà in questa notte in questo momento vorrei solo poter ricomporre tutti i pezzi della mia vita ma al momento ho solo i pezzi e non ho il senso non so metterli assieme e non ho ancora imparato la lezione forse un giorno riuscendo a collocare ogni singolo avvenimento al posto giusto riuscirò a comprendere anche tutto quello che è accaduto e comprendere il passato probabilmente mi darà una visione una vera visione per il futuro e finalmente riuscirò ad aprire nuovamente gli occhi non so metterli assieme non so metterli assieme non so metterli assieme non so metterli assieme